grazie un autore sardo che l'isola entra far parte di una storia fumetti dell'eroe dago lancio stori una delle riviste simbolo del mondo del fumetto dedica questo mese un episodio alla sardegna nord ovest dell'isola in particolare per raccontare il segreto di barbarossa storia firmata da gianluca piredda scrittore e sceneggiatore sassarese ci riferisce valentina orcio tra qualche giorno le coste del nord ovest della sardegna saranno protagoniste di lancio stori e più precisamente della nuova storia di dago il personaggio fumetti creato nel 1980 dal sudamericano robin wood l'episodio si intitola il segreto di barbarossa ed è firmato da gianluca piredda scrittore e sceneggiatore sardo nuova avventura dunque per dago nell'isola che appena un anno fa aveva visitato il centro del sud sardegna ma questa volta il protagonista è al centro di una storia che fa un demito e realtà dove il barbarossa vaga per i paesi costieri alla ricerca di un tesoro perduto la sette di vendetta del pirata quindi si intreccia con la distruzione di olmedo realmente avvenuta e la nascita di assan aga il tutto in 48 pagine ambientate tra le strade di sassari porto torres dell'asinara e di olmedo sassarese 44 anni piredda ha iniziato a muovere i primi passi nell'editoria nei primi anni 90 giovanissimo ha esortito su comics per poi approdare nel mercato americano nel 2000 giornalista scrittore sceneggiatore ha scritto e diretto molte riviste nazionali e internazionali e adesso il segreto di barbarossa storia che appartiene alla nuova linea attrazione italiana dove si raccontano vicende realmente accadute del passato da genova con la congiura dei fieschi a vieste per l'ecidio e così via mischiando sempre realtà e leggenda quella di dago è una vita molto intensa lui nasce come un giovane veneziano ridotto in schiavitù poi diventato giannizero insomma ha attraversato diverse fasi che lo hanno portato a girare mezzo mondo in lungo e largo ha visitato la l'africa tutta l'europa è arrivato persino in america insieme a cortese insomma lui ha conosciuto tutti i personaggi della sua epoca e la bravura di robin food è stata quella di riuscire a mescolare bene la storia rinascimentale con la finzione è una storia che mescola realtà e leggenda e porta d'ago e appunto barbarossa a visitare sassari porto torres la sinara e fino ad arrivare al metro ed è una storia che inizia da una leggenda locale che vede appunto barbarossa alla ricerca di un tesoro perduto che lo porta a visitare nottetempo le città della sardegna vedremo la distruzione di olmedo realmente accaduta e vedremo la nascita di un personaggio molto controverso nella storia sarda che a salario